Banditi in azione la scorsa notte a Monteporzo sulla Pergolese, rubato un grosso escavatore dalla ditta Nasoni e devastato il distributore di carburante della Kuwait che dista poche centinaia di metri dalla ditta per rubare i soldi dei self service. Sradicati completamente dalla loro sede con la bena del grosso mezzo, le colonnine che contengono il contante per portarseli in un luogo sicuro e appartato in un campo adiacente portando via il contante di due giornate di incasso al self che ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Oltre a questi nel computo dei danni si sommano i costi delle strutture distrutte e i mancati incassi dei prossimi giorni perché l'intera area di servizio è resa inutilizzabile. Qui praticamente quello che portano via scardinano gli accettatori delle banconote e carica quelli li portano via e poi li aprono come vogliono appena fuori. Sono arrivati qui con una grossa ruspa come di consoveto ormai andrebbe normale. Hanno sradicato i due accettatori caricati e portati via. In sette anni di attività non si è mai vista una cosa simile ci dice la moglie del titolare ci sentivamo relativamente sicuri per via dell'albergo adiacente che comunque è sempre un punto di passaggio ma niente più come prima ora ci tocca ricominciare da capo. Le telecamere di videosorveglianza hanno catturato le immagini che ora sono in possesso dei carabinieri che vedono l'azione tra individui che fanno scempio della struttura per impossessarsi delle casse e forse ma siamo sempre nell'ambito delle ipotesi sarebbero servite a furti simili anche le altre due grosse scavatrici portate via nel campo base della Pavimental in zona Molino Vecchio di Mondolfo per eseguire i lavori delle opere compensative dell'A14 ma inspiegabilmente dopo una fuga nei campi di ben sette chilometri i due grossi mezzi sono stati abbandonati e ritrovati questa mattina dagli operai della ditta e dai proprietari dei campi. Arrivati in Gandieri abbiamo trovato prima scassato delle cisterne di nafta che mancavano portato una guindalate di nafta e poi abbiamo verificato pensavo che era un furto agricolo poi seguendo le tracce che uscivano dal cantiere mi sono reso conto che non erano più tracce mancavano proprio dei mezzi in cantiere e mancavano due pale che poi l'abbiamo ritrovati nei gambi qui nella zona di via Sirpettine in quest'area qui. Il gigante lasciato lì in mezzo a un campo di piselli e perché è stato abbandonato perfettamente marciante con il pieno di carburante dopo un paio di tragitti che come mostrano le evidenti tracce sul terreno è stato anche abbastanza lungo forse qualcosa è andato storto un mancato appuntamento con i complici o qualcuno o qualcosa hanno disturbato la loro azione criminosa. A queste ed altre domande dovranno rispondere le indagini degli uomini del capitano Alfonso Falcucci della compagnia Carabinieri di Fano che indagano su tutte e due gli episodi.